Il peccato dopo aver preso il gol. Iniziamo bene, giocando bene, ma meno male che abbiamo un punto ancora e dobbiamo lavorare per fare tre punti in casa. È un po' faticoso, giochiamo tre partite in oito giorni, questa è una partita dura anche, ma felici per un punto, non è facile vincere e fare un punto. Ora dobbiamo lavorare per prendere Fiorentina a casa. Grazie.